Allora ragazzi di nuovo insieme, oggi vado a rispondere con un po' di ritardo a Alessandro che mi segue già da un po' di tempo, che mi ha chiesto una cosa un pochino delicata ovvero di fare un tutorial, di suonare, di spiegare e di dare più informazioni possibili sulla prima suite per Bionuccello, i Bach, e più specificatamente sul preludio Allora qui va fatto diverse premesse, diversi preludi Allora innanzitutto stiamo parlando quindi di musica classica all'epoca appunto di Bach e quindi bisogna iniziare a pensare e a studiare in altri modi ovvero innanzitutto andiamo a studiare dei brani e delle composizioni che sono state scritte per altri strumenti quindi in questo caso per il violoncello o addirittura c'è chi ritiene che fosse stato composto, composte queste suite da Bach per viola a gamba addirittura comunque per violoncello e quindi già cambia tutto nel senso che il violoncello innanzitutto è accordato diversamente da un basso, da un contrabbasso, ovvero è accordato per quinte quindi avrà la nota più grave, un DO, la nota subito sotto, quindi un SOL poi il RE e poi il LA per quinte invece il nostro strumento è accordato per quarte quindi abbiamo un ME se avessimo il DO come violoncello avremmo DO, FA, SI bemolle, MI bemolle essendo la corda più grave, un ME, MI laura è il SOL questo cambia tutto, a livello di diteggiature già anche la tonalità è stata scritta in SOL maggiore probabilmente anche per un motivo proprio di sound ovvero questo SOL che loro hanno a vuoto appunto su una terza corda che viene suonato tantissimo essendo spesso un pedale proprio come vedremo dopo e quindi il corpo che dà la nota suonata a vuoto difficilmente lo possiamo ricreare noi suonando il basso elettrico insomma, questa è una prima cosa da dire quindi già innanzitutto anche la difficoltà di esecuzione un bassista esperto rispetto a un violoncellista esperto sono due difficoltà diverse proprio perché un brano è composto per il proprio strumento per i violoncellisti e per quanto riguarda bassisti si trovano a dover trovare diteggiature trovare degli adattamenti anche per rifare più fedelmente possibile una composizione del genere quindi questo è una cosa che va a dire due io sono un fanatico di Bach quindi lo studio della musica classica per me è tra le prime cose anche se non sono sicuramente un musicista classico però essendo amante anche proprio come ascolto mi piace anche andarla a studiare ripeto, su uno strumento che non è certamente classico però secondo me fa molto bene perché nel mio caso mi ha aperto un mondo proprio lo studio anche proprio di Bach stesso non parlo solo di Sweet ho analizzato le sonate i pezzi più famosi il clavicembro ben temperato un sacco di cose di lui come poi di altri compositori ovviamente qui il discorso Sweet è comodo per un certo punto di vista perché sono composizioni per uno strumento quindi non è un'orchestrazione come può essere una sinfonia ovviamente quindi è un ottimo studio non sono un amante particolarmente diciamo fanatico del preludio perché il preludio voglio arrivare anche a questo punto non è altro che un'introduzione proprio preludio è un'introduzione a quello che sarà poi diciamo il discorso musicale ora io non uso termini classici perché primo non sono la persona data secondo siamo bassisti quindi parliamo come se stessimo parlando in brano pop comunque sarebbe un'introduzione a quello che poi è la composizione vera e propria che è composta in genere da diversi diversi diciamo brani scritti in forma dei balli dell'epoca quindi ci sarà la gig e la sarabande che sono balli o comunque danze ecco meglio detto danze francesi eccetera eccetera comunque tornando alla suite numero uno ad esempio a me piace molto di più il secondo movimento comunque consiglio che vi do è quello di ascoltarla tutta tanto non è che durano dieci ore e non limitarvi solo al preludio che poi è diventato un po' un cliché anche di tanti bassisti però a me non non è mai piaciuto soprattutto quando forse perché il primo impatto è quello che conta di più e il primo impatto vedi un bassista famoso però non ricordo chi è che la suonava proprio così dall'inizio alla fine e per me questo non dico sia giusto o sbagliato però non mi trasmetteva niente se invece vi metto ad esempio la registrazione una delle più famose in questo caso Misha Maschi di un cellista stratosferico ce ne sono tanti altri però sentite già da queste prime misure si percepisce innanzitutto subito un crescendo spaventoso iniziale quindi da un arpeggio suonato diciamo quasi non piano però diciamo mezzo forte quindi allora le cose da stare molto attenti da analizzare molto è mettere ad esempio questa questa registrazione di riferimento o comunque altre per via un cello cercare di capire com'è fraseggio classico e quindi si parla di dinamica prima di tutto che c'è dei crescenti dei diminuendi che danno poi il senso di tutto quindi dinamica accelerati quindi cambi proprio di come si dice di velocità proprio insomma l'interpretazione quindi Bach tra l'altro non è che negli spartiti dava tantissime indicazioni quindi c'è una libera interpretazione su molte frasi su molte cose quindi va studiato in questo modo qui altra cosa secondo me è fondamentale qui togliere le tab e capire le note anche in relazione anche se qui non c'è un pianoforte che fa gli accordi o una chitarra che fa gli accordi sono analisi armoniche molto diverse da quelle che siamo abituati a fare noi però se analizziamo le note si può farci un'idea anche a noi non esperti di musica classica di quello che è un po' il senso armonico del brano o comunque del preludio l'inizio è composto dalle note di sol re si la si re si re è chiaramente sottinteso al sol maggiore quindi sarebbe come se fosse un arpeggio di sol maggiore e la seconda battuta invece che è composto sempre da sol a basso quindi è un pedale di sol però le note sono sol mi do si do mi do mi questo mi indica che siamo andati sempre sottinteso sul quarto grado col pedale di sol a basso quindi sul do maggiore sempre poi c'è un re settima che sol fa diesis c'è un re settima perché c'è il do naturale c'è il fa diesis quindi è un re settima che mi riporta sul sol quindi la cadenza cioè il giro armonico sarebbe primo quarto quinto primo molto riduttivo detto così però intanto ci facciamo un'idea di quello che è poi ci sono vari modi per suonare questo brano ad esempio posso fare sull'ottava bassa eccetera eccetera ma anche qui sull'ottava alta consiglio di studiarlo in vari modi quindi sull'ottava bassa sull'ottava alta mischiando le due cose mettendo io ad esempio utilizzo per suonare questo brano in particolare utilizzo il più possibile le corde a vuoto anche se sullo spartito è scritto magari un mi in alcuni casi alto lo prendo a vuoto perché mi piace di più come sono ovviamente tanto non si rifarà mai identico a quello che è la suite per violoncello quindi allora ovviamente in questa prima parte io mi devo fermare qui perché ci saranno ci sarà almeno un seguito per spiegarla proprio nei dettagli nota per nota altrimenti le lezioni diventano troppo lunghe e quindi il primo step è questo capire con i pdf che vi fornisco come sempre qui al link sotto prendendo quelli cercando di capire quello che ho scritto io quindi anche per l'armonia che ho scritto fino a battuta numero 10 e poi cercate di continuare voi a capire la correlazione note fraseggio accordi sottintesi come dicevo prima e farvi una vostra viteggiatura quindi lasciate perdere in questo caso le tab o comunque prendete le note e scrivetevi una tablatura vostra non guardate quella mia o quella di altri perché come sempre vi ricordo che si può fare questo ma si può fare anche questo oppure questo col re a vuoto quindi anche in questo caso lo studio delle scale in questo caso sol maggiore altre scale note strane classico di Bach però per lo più studiare benissimo a scala di sol maggiore in tutti i suoi vari sfaccettature quindi arpeggi quant'altro quindi ragazzi Alessandro per oggi mi fermo qui che tanto il lavoro qui è lungo è bello e iniziare a avvicinarsi al mondo della classica è un'ottima cosa e ci sarà ovviamente almeno un seguito vi saluto e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti